Il fascismo in Italia non è nato con le grandi adunate da migliaia di persone, è nato dai bordi di un marciapiede qualunque con la vittima di un pestaggio per motivi politici che è stata lasciata a se stessa da passanti indifferenti. Odio gli indifferenti, diceva un grande italiano Antonio Gramsci, che i fascisti chiusero in un carcere fino alla morte, impauriti come conigli dalle forze delle sue idee. Lo ha scritto la dirigente scolastica del liceo Leonardo da Vinci di Firenze, Annalisa Savino, in una comunicazione agli studenti e al personale dopo l'aggressione al liceo Michelangelo di sabato scorso. Siate consapevoli che è in momenti come questi che nella storia i totalitarismi hanno preso piede e fondato le loro fortune rovinando quelle di intere generazioni, ha poi aggiunto. Nei periodi di incertezza, di sfiducia collettiva nelle istituzioni, di sguardo ripiegato dentro al proprio recinto, abbiamo tutti bisogno di avere fiducia nel futuro e di aprirci al mondo condannando sempre la violenza e la prepotenza. Chi decanta il valore delle frontiere, chi onora il sangue degli avi in contrapposizione ai diversi, continuando ad alzare i muri, va lasciato solo, chiamato con il suo nome, combattuto con le idee e con la cultura. Senza illudersi, ha concluso che questo disgustoso rigurgito passi da sé. Lo pensavano anche tanti italiani per bene, cento anni fa, ma non è andata così.